Sono Maria Teresa Tuccio dell'Associazione Zenzero, la PAS Genovese che insieme a Ecoistituto Reggio Emilia Genova da luglio scorso, ormai da mesi, ha cominciato a parlare di transizione ecologica e a chiederci quale transizione ecologica vogliamo. Per sviluppare questo tema abbiamo invitato esperti di vario tipo. Li vedete elencati in questa diapositiva esperti di varie specializzazioni a cui abbiamo chiesto qual era secondo loro la modalità più opportuna in modo che la transizione non fosse semplicemente la famosa mano di lente sull'esistente, tanto per giustificare il mantenimento del paradigma della crescita che per me rappresenta un po' tante cose. Da Gesualdi a Pallante, passando per Ercolini e Guido Viale, siamo arrivati ad Armaroli, che si è aperto uno schermo enorme sull'energia. Abbiamo avuto due conferenze del Giobotanico Martini, gradevolissime, e poi a gennaio siamo arrivati a vivere e a parlare della tragedia del mare, il mare svuotato, dove ormai i pesci sono solo un ricordo. L'architettura del paesaggio è stata affrontata dall'architetta Francesco Mazzino della città di Genova e poi l'8 marzo abbiamo invitato, grazie a Francescato, che dovevamo parlare con lei delle soluzioni secondo natura e non contro natura. Ma drammaticamente una settimana prima era cominciata questa guerra che ci porta, come dire, io parlo di queste cose ma ho un po' una sensazione di essere schizofrenica perché non si può continuare a parlare come se niente fosse. D'altra parte non si può neanche interrompere tutto perché è scoppiata la guerra. Quindi trovare un giusto equilibrio è proprio difficile e abbiamo tentato con le due conferenze successive molto pregevole e interessante quella sulle comunità energetiche e Luca Montanarelli ci ha parlato delle politiche europee per il mantenimento della salute dei suoli, dei nostri suoli, ma forse con la conferenza di oggi che vede Mario Agostinelli coinvolto, forse con la conferenza di oggi si potrà cercare di saldare un po' questa schizofrenia di cui io mi sento invasa da un paio di mesi, ormai tre mesi, due mesi e mezzo da quando c'è la guerra. In questo libro a cui Agostinelli ha contribuito c'è un grosso capitolo sulla guerra e forse speriamo con lui, Mario Agostinelli l'abbiamo conosciuto qui allo Zenzero quando aveva presentato un libro sulla fisica dei quanti, come la fisica quantistica ha cambiato anche il nostro modo di vivere quotidiano. Perché Mario Agostinelli credo sia laureato in fisica, Mario sei laureato in fisico o in chimica? In chimica fisica. Perfetto, ha saldato le due competenze, però nella sua vita ha fatto oltre che ricercatore... Soprattutto il sindacalista. Sì, dicevo oltre che ricercatore all'Enea, ha fatto il sindacalista, il consigliere regionale, si è occupato dei corsi delle 150 ore organizzati dall'FLM, è stato uno degli attivisti del referendum contro il nucleare e quant'altro. Qua mi sono fermata, ma c'è una lunga... Ho cinque nipoti. Ecco, ho cinque nipoti che aggiunge una nota positiva a tutto questo. Io concludo questa breve presentazione pregando come sempre di porre alla fine le domande in chat e di chiudere microfoni e video che vi ripeterò, vi ripeto come sempre, che se non lo fate voi lo faremo noi. Un'ultima osservazione, questa è l'ultima conferenza della serie e trovate l'elenco e le registrazioni di tutte le conferenze sui nostri siti. Dal sito dello Zenzero in prima pagina avete un banner che vi rimanda esattamente all'elenco, avete un banner di questo tipo, che vi rimanda esattamente all'elenco di tutte le conferenze. In ognuno di questi clicca qui, c'è la registrazione della conferenza corrispondente. Interrompo la condivisione e passo con piacere la parola a... non so se a Federico o direttamente a Mario. Sì, no, vabbè, io volevo ringraziare Mario di aver accettato l'invito per la sua presenza qui oggi. Appunto ti abbiamo scelto proprio perché pensavamo che tu potresti concludere bene, o perlomeno, pur con le difficoltà che la guerra sta comportando, potevi darci in qualche modo un quadro dell'attuale situazione, ho visto che tu con la tua associazione Laudato Si stai affrontando queste tematiche e voi avete appunto, come dire, ristaurato proprio un osservatorio del PIN NRR. Io volevo avere qualche notizia su questo osservatorio, chi ne fa parte, come lavora, e se voi, anzi, siamo molto interessati ad avere le prime valutazioni che siete stati in grado di fare in questi pochi mesi su cui siamo partiti. Prego. Io ho un grande piacere essere tra voi, e poi Genova per me è una città così cara, da farmi proiettare volentieri dentro i sentimenti anche della vostra associazione. Quindi grazie e provo, se volete, a dare una cornice a questa sofferenza, a questa angoscia, che tra l'altro io credo sia davvero infieri e non facilmente rimovibile per lungo tempo. Ecco, proprio per inquadrare questa angoscia in un'era che davvero non è più affrontabile con le ricette, le parole e la cassetta degli attrezzi che noi c'eravamo costruito. Cioè, mi sembra che di fronte a una guerra mondiale a pezzi, così è stata definita, di fronte all'emergenza climatica che ha caratteri bruschi. Cioè, da due volte noi abbiamo dei livelli di innalzamento dei mari superiori alle previsioni che erano state annunciate. abbiamo un grado di siccità per tutto il nord Italia. Io abito nella pianura padana, che non ha nessun elemento di paragone. Ecco. Nello stesso tempo, e voi avete avuto, tutte le persone che sono arrivate prima di me, sono molto, molto brave e le conosco bene. Avete avuto Bardi a parlarvi di come si sta estinguendo il mare, no? Sì. Questa questione della biodiversità è veramente l'esclusa dalla discussione. È quasi ancora, soprattutto, elemento per specialisti. Quindi, ecco, allora io vorrei partire da questo racconto che contiene anche la guerra. Cioè, tutto quello che è intorno a noi, compresi i miei capelli, la barba di Federico, gli occhiali della Tuccio, no? di Maria Teresa, sono nati tutti in un momento in cui non c'era né tempo né spazio. Ben 14 miliardi di anni fa. Cioè, i neuroni del mio cervello e la barba che io vedo qui, ho la mano così appoggiata di fasce che guarda stupito, provengono da continue ricombinazioni cosmogenesi che dal Big Bang 14 miliardi di anni fa arrivano fino a 4 miliardi di anni fa quando improvvisamente dalle stelle piovono tutti gli elementi della tabella periodica che si sono composti attraverso le grandi quattro forze fisiche e si organizza in forme del tutto primitive che ancora non riusciamo a indagare qualcosa che si riproduce. Cioè, qualcosa di mai visto prima nell'universo. Ecco, tenete conto che noi siamo osservatori da circa, beh, 500 mila anni, se va bene, come Homo Sapiens. Per tutti gli altri 13 miliardi e mezzo di anni questo universo c'è stato e nessuno di noi ne ha avuto sensazione. Ma noi ne siamo il prodotto. E dobbiamo renderci conto che in questa era che incominciamo a assimilare concetti come il fatto che non siamo al centro di questo enorme ammasso di materia e di energia ma siamo in una propaggine infinitesima che si mantiene e si riproduce perché il sole è a una distanza significativamente lontana dalla Terra altrimenti saremmo come su Venere e saremmo incendiati perché c'è un'atmosfera intorno alla Terra che filtra i raggi del sole e quindi, come vedete, al tramonto si arrossa, fa girare le molecole le ruota, le ricombina e giunge sulla Terra dove produce dei cicli naturali che si collegano alla vita dell'uomo cioè l'uomo non può fare a meno di tutto quel percorso che io vi ho indicato e a questo punto c'è da chiedersi se l'uomo possa ancora in un'era in cui abbiamo la percezione di questa novità e devo dire che nella Laudato Si il Papa ha questa intuizione l'ha colta questo è un elemento di forza extra-religioso cioè è un fatto nuovo ma questa capacità di narrare la nostra esistenza ci fa domandare se noi abbiamo diritto di distruggere la natura e le nostre vite attraverso la guerra cioè mai come oggi la guerra è insostenibile cioè noi abbiamo sviluppato una civiltà che consuma e disperde quantità di energia che erano state immagazzinate dal sole nelle profondità degli oceani dei mari delle montagne in petrolio e carbone l'abbiamo immessa in atmosfera e poi siamo addirittura arrivati a domare un'energia ancora più potente quella dell'atomo cioè abbiamo concentrato in uno spazio piccolissimo la quantità di energia cioè in un centimetro cubo di uranio fissile ci sono 50.000 tonnellate di carbone che vengono portate in combustione e naturalmente questa è un'energia che se viene utilizzata o se viene in un certo qual modo non controllata beh, porta sicuramente a effetti che sul piano biologico nei tempi e nella capacità di rigenerazione hanno paragoni solo con le cinque estinzioni che sono avvenute da 500 milioni di anni fa cioè le quattro vulcaniche ad esempio che hanno creato e lo dicono i geologi tutte le volte ecosistemi nuovi quest'ultima che ha fatto scomparire i dinosauri e ha dato vita a piccoli mammiferi fino alla fine di questo percorso nell'ultimo tratto compare l'uomo che si ingegna a depredare tutte le risorse naturali in una fase tutta quella dello sviluppo industriale ad esempio parlo soprattutto dei paesi civilizzati come i nostri perché l'Africa o l'Amazonia hanno meno colpe da questo punto di vista ma in paesi come i nostri si è concentrata una attività e si è trattata la natura come fosse un manufatto dell'uomo che prima o poi avremmo saputo riparare ecco siamo a questa svolta oggi gli scienziati di tutto il mondo e perfino chi fa geopolitica parlo di Limes ad esempio e potete leggerlo che è se volete più moderato e meno pessimista di me ma tutto l'insieme della riflessione delle generazioni che stanno arrivando e che noi siamo di fronte a un'era l'antropocene completamente diversa rispetto al passato e noi l'avevamo inaugurata bene se volete cioè in Europa dopo la seconda guerra mondiale Genova lo sa bene ad esempio beh noi la resistenza che è stata celebrata il 25 aprile mette le basi per costruire il diritto della pace come fondamento della convivenza cioè la guerra è abolita cioè io adesso vi racconto se volete poi le diapositive le vedrete sono molto evocative invece le racconto così un ammiraglio importante inglese in questi giorni diceva che il dominio dei mari e il controllo degli eserciti sulla terra o nello spazio dovrebbe diventare a suo dire compatibile con il cambiamento climatico la domanda è ma in che ordine di idee si può fare questa affermazione cioè pensate che nell'accordo anche ultimo di Parigi a cui ho partecipato cercando di stare in questa relazione tra le nostre associazioni la società e quelli che stavano ai tavoli a trattare beh il Pentagono ad esempio è la sesta nazione per emissioni di CO2 però non è conteggiata cioè è obbligo per convenzione di non conteggiare nelle emissioni climatiche tutto quanto gli eserciti mettono in gioco pensate allora sotto questo punto di vista alla guerra in Ucraina e alle immagini spaventose che ci vengono date quella guerra aumenta le emissioni ovviamente no? assolutamente cioè tenete conto che ad esempio un bombardamento come quello che avviene negli scambi tra gli obici neanche quelli da 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 aereo insomma normalmente si è protratto io facevo i conti prima di fare questo incontro per questi 69 giorni consuma in CO2 più di tutta la popolazione dell'Africa subsahariana cioè questa guerra è come un anno di vita di tutta la popolazione africana sotto il Sahara ecco questo è se volete la novità con cui dobbiamo noi oggi non solo fare i conti ma organizzare le nostre società le nostre energie le nostre forze e da questo punto di vista l'Europa aveva introdotto prima di questa guerra una grande novità cioè il fatto di raggiungere un'Europa verde entro il 2050 a tappe forzate e con una forma di cooperazione che avrebbe gradualmente abolito tutte le fonti fossili senti ci puoi ci puoi raccontare cosa è successo nei mesi prima della guerra per quanto riguarda questo obiettivo e poi la guerra cosa ha combinato perché questo è l'aspetto che forse ci interessa per capire poi è molto è molto è assolutamente istruttivo prego cioè nel 2020 a fine del 2020 viene varato un quello che si chiama Next Generation EU un progetto che punta a far convergere l'azione di tutti e 27 i paesi europei in modo da privarsi nell'approvvigionamento energetico di qualsiasi fonte che una volta portata in combustione emetta dell'anidride carbonica e cioè arrivare a un primo punto interessante cioè avere emissioni che oggi sono a 412 parti per milione in atmosfera che non superino questo livello oggi come oggi e questo è interessante l'IPCC e poi lo vedrete in quelle cose che io vi ho mandato annuncia che all'inizio di questa guerra non avendo di fatto realizzato nessuna grande modifica se non delle promesse noi avremmo raggiunto e superato le 500 parti per milione entro la fine secolo che significa tre metri e mezzo di aumento di aumento del livello del mare vuol dire che va sotto quasi un pezzo della lanterna ecco vuol dire come la mia nipotina quando siamo andati a Venezia perché io porto qualche volta in premio questi bellissimi germogli in giro mi diceva ma nonno quando io avrò la tua età probabilmente non si può più venire a Venezia allora io mi sono messo nei panni di quando io avevo nove anni e non mi sfiorava neanche un pensiero così ad esempio è interessante questa dimensione noi che ci incontriamo e ci responsabilizziamo dobbiamo dire a questa generazione che gli diamo garanzie e che mettiamo a disposizione anche i diritti che noi abbiamo acquisito non perché loro non possono goderne ma perché possa protarsi nel tempo la rigenerazione di tutta la vita voi l'avete visto nel mare ad esempio ma il mare non è altro che uno dei tanti anelli che se vengono a mancare tolgono spazio anche ad esempio la vita umana io devo dirvi che se cresce di due tre metri come temo possa succedere a meno che si prenda atto e l'umanità ha avuto degli scatti in cui si è resa conto che non poteva continuare indefessamente ecco se non si prende atto beh anche le terre abitate saranno molto meno di prima tutti i delta dei fiumi dove sono nate le prime civiltà pensate l'Egitto l'Indo i fiumi cinesi la laguna di Venezia verrebbero sommerse quindi la popolazione dovrebbe in un certo qual modo sopravvivere in uno spazio minore che è un'idea che alcuni think tank addirittura di ispirazione quasi razzista da tempo stanno sostenendo cioè che non ci sia spazio per tutti sul mondo e quindi cosa succederà? com'è? e quindi cosa succede in questa ipotesi? guerra o emigrazione e naturalmente combattere anche l'emigrazione quindi produrre conflitti che eliminino la possibilità di aumentare il numero delle bocche che hanno da prelevare le risorse sulla per fortuna noi siamo in questa storia secondo te quindi secondo te siamo in questa storia in questo momento? cioè la guerra che poi questa guerra a pezzi che parla anche il Papa a parte di questa strategia devo dire che i più avveduti non so Roberto Savio ad esempio sostiene da tempo che la vera novità del pensiero che unifica tra l'altro civiltà molto diverse quella russa ad esempio e quella americana completamente storie diverse è l'idea di mantenere per la propria stirpe un'area riservata e quindi se c'è bisogno anche di armarsi e giustificano da questo punto di vista ad esempio lo spostamento di risorse anziché dalla cooperazione o da che so l'assistenza la cura queste sono parole tra l'altro molto delicate si sposta invece nel bartero della guerra questa guerra ha sicuramente credo che su questo non bisogna avere nemmeno ha un protagonista nefasto cioè l'idea che un autocrate potesse ricostruire il territorio come atto di potenza anziché come atto di convivenza e quindi che non attraverso la pace e quindi attraverso delle forme democratiche di partecipazione ma attraverso l'esibizione di potenza anche energetica perché gli armamenti sono questi potesse spostare quelli che sono i confini che invece sono determinati sempre meno dall'individualismo e dal razzismo e sempre di più associati a una visione globale ma pacifica non tanto alla globalizzazione economica ma da più parti e l'ONU è stato il primo interprete ad esempio in questa direzione si dice che sarebbe molto importante stabilire una cooperazione e un'universalità dei diritti per cui non so in pandemia il vaccino possa essere distribuito il più possibile anziché essere mantenuto all'interno dei profitti che crescono mi si chiedeva dove è andato a finire quell'obiettivo straordinario siglato da tutto il Consiglio europeo e addirittura corretto dal Parlamento che ha chiesto il 45% di rinnovabili anziché il 35% al 2050 è stato interrotto in una progressione che avrebbe visto sicuramente credo l'Europa e probabilmente anche gli altri stati in convergenza è stato interrotto dal combinato tra lo spreco in armi io ad esempio sono contrario anche all'invio di armi per continuarla la guerra cioè la guerra va fermata questo è l'elemento chiave mi sembra che e dentro questo nuovo aspetto beh la forzatura di bloccare immediatamente il rifornimento in modo particolare del gas tra l'altro in modo selezionato porta a situazioni di emergenza che escludono di abbandonare tutta l'infrastruttura la vedrete com'è complicata nelle mie slide dei fossili cioè oggi ad esempio di fronte al blocco che avverrà io credo con molto molto circospezione perché continuano a dire lo blocchiamo ma intanto continua arrivare il gas almeno da noi non arriva più in Polonia e in Bulgaria ma da noi continua arrivare ancora beh la sostituzione di questo gas significa andare a prendere come c'è stato offerto o da metanodotti della Turchia o dal Mozambico o dall'Egitto dove c'era Regeni oppure dalle navi metaniere che sono state immediatamente offerte da Biden all'Europa cioè lui ha detto noi abbiamo tantissimo shale gas gas di scisto ve l'avranno detto quelli che sono venuti prima terribile dal punto di vista ambientale possiamo metterlo al fresco comprimerlo portarlo a meno 161 gradi metterlo in navi metaniere attraversare l'oceano approdare i vostri porti voi lo rigassificate e ce l'avete a disposizione beh io facevo i conti significa che dal punto di vista energetico noi emettiamo quasi tre volte tanto per kilowattora prodotto la co2 che produciamo all'istante adesso quindi questa guerra è un inciampo terribile sul piano ad esempio di tutto il corso che voi avete strutturato per la transizione energetica e nei fatti io vi devo dire che il pnr che Draghi ha sostenuto sostenuto anche prima il governo Conte avevano cercato di privilegiare l'Italia con 191 miliardi di prestiti che probabilmente sono addirittura si dice in parte a fondo perduto poi andrà vista questa questione in ogni caso sono interessi infinitamente inferiori a quelli che si sarebbero ottenuti con investimenti privati o sul mercato ecco di questi 191 miliardi 62 dovrebbero andare alla transizione ecologica e per transizione ecologica lo vedrete nelle slide che vi faccio si parla di mobilità sostenibile cioè forme di combustione dei motori non più termica ma sostituzione con motori elettrici io credo che bisogna fare molto di più bisogna usare i treni bisogna usare i sistemi pubblici ecco anziché ciascuno avere un'automobile o due per famiglia insomma come capita ne abbiamo uno e quattro per ogni famiglia in Italia e quindi non basterà l'elettrico ecco però questa novità di avere delle soluzioni a disposizione soluzioni tra l'altro che sono molto ingegnose perché non so quando pensate al solare ve l'avranno detto quelli che sono venuti prima di me il problema è che abbiamo molto spazio da occupare quindi bisogna coprire però abbiamo tante zone dove si può progettare il PNNR dovrebbe avere questo contenuto sostiene e qualifica e fa prestiti per chi mette impianti solari o impianti eolici in mezzo al mare cioè distante in modo che il paesaggio non venga vulnerato possibilmente e per ciascuno di queste sostituzioni di emissione di CO2 arrivano progetti programmi che devono essere validati tra l'altro io ve lo dico anche dalla regione Liguria ad esempio per progetti con caratteristiche superiori a 12 megawatt di portato e questo vuol dire che noi dovremmo avere tutti i nostri addetti nei comuni che si stanno attrezzando io vado in giro perché a volte mi chiamano e non ne sa niente nessuno cioè io vedrete nella cosa che vi lascio vi lascio anche una una complicatissima versione che Lanci ha mandato tutti i comuni per verificare i passaggi per poter portare in porto dei progetti di se volete maggiore socializzazione che so i nidi fare circoli ricreativi fino a dotare questi di autosufficienza energetica ecco per farlo ci sono 21 passaggi cioè provate a pensare un comune che deve vedere viaggiare in 21 passaggi e poi naturalmente i soldi arrivano quando probabilmente il clima non si è fermato in attesa di questi 21 passaggi ecco io volevo tra l'altro darvi perché credo di avere già usato ma finisco darvi un'altra notizia questa assolutamente positiva cioè oggi il costo per kilowattora elettrico parlo dell'elettrico sul resto è un po' più complicato e dobbiamo essere anche molto realisti perché bisogna farle le cose non solo annunciarle il costo del kilowattora elettrico da solare e da fotovoltaico è inferiore a qualunque produzione che oggi c'è sul mercato costa meno del gas costa meno del carbone costa molto 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 meno del nucleare e ha un problema però mentre il fossile lo puoi far funzionare una volta che hai rifornito la centrale teoricamente tutto l'anno il sole c'è di giorno e non di notte il vento c'è forte in certi momenti questa è la grande novità e le cose che volevo anche suggerire questi progetti devono essere progetti che rendano efficienti questi sistemi perché quando producono troppo trasferiscono l'energia o in forme di immagazzinamento come il pompaggio dell'acqua o idrogeno ad esempio oppure in comunità energetiche che si costituiscono con un unico contatore e tutte le volte che uno degli apparati non è utilizzato internamente scambia con la comunità io ho fatto due esperienze di questo tipo una in Puglia l'altra è ancora in costruzione sulle rive del lago maggiore quella in Puglia è andata così bene che è entrato il comune nella cooperativa con una quota del 23% in modo da essere e hanno alla fine messo in rete e risparmiato così tanto da avere deciso di dare gratis alle scuole medie i libri per i prossimi due anni ma capite che un modo di leggere i passaggi che abbiamo di fronte è molto meno drammatico di quanto ci ponga invece l'uso Mario mi sembra che tu ecco questa cosa che qui con il tuo finato diciamo ci dà un minimo di speranza perché le cose perché ne abbiamo parlato lo volevo tanto ecco volevo che lo so e volevamo capire insieme poi tu sicuramente hai approfondito di più questo argomento allora siamo allora diciamo così mi sembra di capire che tu non stai ritenendo negativo lo sforzo che il nostro paese l'Unione Europea sta facendo per questo Next Generation U tutt'altro forse andiamo troppo lenti poi stiamo pagando le nostre difficoltà siamo lenti ti pare? e vorrei che partisse posso dirvi io ho cercato di darvi anche nelle slide i compiti a livello locale sono troppo pochi cioè le energie rinnovabili si fanno se nascono sul territorio cioè se si è in riva al mare conta il vento assai di più di quanto conti che so l'acqua ad esempio se sei sulle rive di un fiume o su un bacino conta l'acqua è la composizione è il territorio che fa nascere e spinge sui progetti io credo che il comune di Genova che aveva un bellissimo piano energetico a cui aveva lavorato anche questo mio amico Carrosio che lavorava con Don Gallo a Genova aveva costruito questo bellissimo piano energetico per la città che avevamo addirittura premiato a livello nazionale non ha avuto gambe è fermo da otto anni è fermo da otto anni però il tuo suggerimento potrebbe essere che lo riprendiamo io credo che voi la vostra APS si faccia carico e io vi do una mano volentieri l'osservatorio sul PNNR ha oggi una composizione che fa riferimento ha laudato sì al gruppo di grandi che è quello per la democrazia costituzionale è un gruppo di giovani che fanno capo grossomodo a una parte di Fridays for Future però noi abbiamo immediatamente aperto questo osservatorio all'adesione di tutte le associazioni perché questa spinta o riparte dal basso e voi andate in comune nei vostri comuni io ho gli amici a Zoagli e gli dico qui a Bogliasco dove sono io abbiamo già parlato col sindaco che è molto interessato tra l'altro io posso darvi se vi interessa anche una mano ecco c'è gente tra di noi che può davvero darvi un contributo diretto sullo specifico di un territorio io ad esempio ho fatto un incontro a Chiavari su una bella terrazza fatta sopra la piazza e con grande stupore si sono resi conto che una cittadina come Chiavari non aveva ancora strutturato un progetto per rendersi sufficiente la parola la parola chiave è sufficiente comunità e sufficiente sufficiente si io penso che rispetto alle cose molto interessanti che ci hai detto intanto questo collegamento mi pare che sia importante poi sentiamo eventualmente chi ci sta seguendo se su questo vuole esprimere qualche parere io la mia riflessione che era un po' questa da una parte abbiamo alcuni personaggi che stanno decidendo il nostro futuro e sto parlando dei grandi che appunto in questo momento stanno decidendo di fare questa guerra a pezzi e poi abbiamo milioni e milioni di persone che potremmo essere noi che di fatto in Ucraina stanno subendo appunto come dire gli effetti in diretta e noi come dire li subiremo perché sicuramente la problematica energetica ci verrà addosso però d'altra parte è anche vero che quel modello di cui tu hai parlato appunto le fonti di energia rinnovabile eccetera potrebbero essere la risposta se noi fossimo partiti venti anni fa a fare le cose che si potevano già fare venti anni fa oggi non avremmo quel problema critico che abbiamo da affrontare con i tagli del metano del petrolio che ci saranno tanto per dirne una noi siamo cresciuti fino a sette anni fa e poi ci siamo messi su un plafond che va bene secondo me parlo di crescita delle rinnovate ah sì sì scusami non ho parlato anche di di consumo energetico purtroppo noi dopo la pandemia questa è una notizia non bella dopo la pandemia la permanenza della CO2 in atmosfera che dura 80 anni ha continuato a produrre effetti espansivi non si è ridotta è cresciuta meno di quanto doveva però è purtroppo ugualmente cresciuta non è una buona notizia e l'altra novità è che il metano per la prima volta conteggiato dall'IPCC produce degli effetti molto negativi quindi tutto questo significa modi di vivere stili di vita consumi manutenzione ma secondo te ce la possiamo fare scusami Mario io ne sono sicuro nonni saranno una mano i loro nipoti perché io credo che dobbiamo proprio pensare alla proiezione verso i nipoti cioè noi non ce la facciamo io non ce la faccio perché io non posso arrivare a 2035 a vedere ma se non facciamo adesso subito almeno 30 gigawatt di e questo era uno dei conti che vi lascio nelle slide almeno 30 gigawatt di rinnovabili entro il 2023 noi non raggiungeremo assolutamente la sicurezza il tuo suggerimento e quindi è quello di fare pressioni a livello locale inutile che ci dobbiamo muoverci ognuno di noi ma il livello locale poi si congiunge con i livelli più alti e li sollecita non so nel nostro caso per Cività Vecchia siamo partiti addirittura da uno sciopero all'interno della centrale che io avevo organizzato anche una che è una di quelle centrali a carbone che ripartono che è già ripartita mi dicevi e purtroppo sai in questo momento non va il gas lo devono però andrà sostituita e sarebbe stato bello se avessimo già avuto quei progetti che sono già esecutivi in campo almeno da sperimentare da cominciare a entrare dentro ma Cività Vecchia siamo partiti da lì e è cresciuto cioè perfino il Vescovo oltre al sindacato i comitati locali la CNA hanno raggiunto la regione e la regione ha portato il progetto sul tavolo dei due ministeri competenti beh questo processo fa sì che Cività Vecchia sarà sicuramente all'interno dei PNNR però se non lo si costruisce questo percorso l'Italia è fatta non come i tedeschi insomma e che progetto c'è per Cività Vecchia qualche dettaglio c'è sì il dettaglio è questo vengono messi 12 megawatt di solare sulle banchine del porto e sì ma anche a Genova si sta ragionando però non so bene dove però qui il progetto è già stato anche validato in sede europea e viene messo un idrolizzatore per conservare localmente l'idrogeno in modo che tutta la movimentazione del porto che accade spesso quando non c'è il sole anche la sera così possa essere assicurata ma l'aspetto più importante e da questo punto di vista molto sofisticato non eravamo sicuri di poterlo mettere in campo è quello di ancorare a mille metri di profondità 23 pale eoliche da 27 megawatt ciascuna che sono delle cose mostruose però vengono messe dietro l'isola del Giglio cioè a 35 km non si vedono dal potrebbe andare anche per i fondali viguri che forse non so se sono più profondi sono un grosso modo ci sono soprattutto nella zona di Savona avete già visto nella zona di La Spezia ho visto che ci sono due tre zone di grande interesse dal punto di vista anche della costanza del vento ecco il vento porterebbe a terra da queste piattaforme galeggianti energia elettrica in continua che verrebbe immediatamente riconvertita attraverso delle forme di cabine che forniscono energia a singole comunità anche a condomini se si vuole si può ormai abbiamo una legge che oggi mi pare che Girotto in Parlamento faccia una conferenza pubblica per segnalare il compimento di una legge sulle comunità energetiche ecco interessate potremmo fare un gemellaggio civita vecchia Genova che dici guarda sarebbe molto bello perché secondo me qualcosa si sta muovendo anche da noi ma non credo con la vostra loro hanno già un rapporto forte con la spezia bene e poi l'esolettrificazione dei porti faccia parte della storia che è anche un problema nostro tra l'altro i soldi del PNNR sui porti sono aggiuntivi a quelli sulla transizione c'è una parte che si chiama porti verdi che ha un canale privilegiato di sostentamento e di sostegno qualcosa deve esserci anche per Genova ma forse dovremmo anche noi conoscerlo meglio nelle slide che vi do c'è segnata anche Genova mi pare sono 13 città metropolitane che sono collocate in riva al mare ecco quindi non so per dirti Palermo Catania Napoli ovviamente il problema secondo me è che non c'è la cultura all'interno delle amministrazioni un altro problema è che non pensino di usarli per questa assurda teleferica che dal porto andrebbe a una delle alture abbiamo anche queste storie locali abbiamo questo progetto che non è solo locale anche Trieste avevano un progetto del genere a Trieste sono riusciti un attimo a arginarli era un intervento di Pinuccia non so se possiamo eventualmente Maria Teresa sì no Mario stava rispondendo qualcosa prego no dico che conosco la questione di Trieste non conosco quella di Genova ma credo che tutte le forme che per certi versi non hanno un significato sostitutivo dell'uso muscolare con energia ex-energia cioè energia extracorporea non vanno privilegiati cioè ad esempio la possibilità di muoversi all'interno delle città possibilmente in strade percorribili e chiuse al traffico con sistemi ad esempio per gli anziani o gli handicappati a Genova mi sembra che qualcosa del genere si era mosso ne avevo visto qualcosa quando ero ritornato all'Enea avevo lavorato anche un progetto per dei bus a idrogeno che avevamo sperimentato sulla salita da piazza Ferrari fino alla stazione di era pericoloso perché non facendo rumore non si accorgeva avevamo messo sopra un altoparlante che faceva rumore è un problema vero anche questo c'era non so se c'era qualche domanda c'è una considerazione di Pinuccia che possiamo forse farle dire vuoi fare tu Pinuccia direttamente direi visto che è abbastanza lungo facciamolo chiediamo a Pinuccia come preferisce fare sì lo conosco il programma del 2012 lo stai già guardando ok per l'energia e il clima aspetta che lo leggiamo magari per chi non l'ha letto a Genova nel 2012 approvamo un piano per l'energia e il clima prevedendo 80 azioni a breve medio e lungo termine per ridurre di 600.000 tonnellate la CO2 alcuni avevano iniziato a realizzarli anche con la partecipazione dei cittadini come i gruppi di acquisto solare e altri interventi specifici purtroppo però i cambi di amministrazione costituiscono una grave perdita per i progetti il nostro paese era stato premiato dalla Commissione Europea e c'era anch'io premiato con il volumetto cambiamenti climatici la sfida delle città aveva vinto il premio delle città metropolitane in Europa a Genova con il suo piano è un piano molto interessante molto articolato diviso in diverse zone e c'era sindaco quello che Doria ecco ricordo che ero venuto a presentare questo piano nella parrocchia nella parrocchia nella non so nel centro sociale dove c'era Don Gallo sì però non si è fatto nulla a questo punto non so se credo che il cambio di amministrazione davvero a volte avviene cioè la democrazia ormai è così debole che i cambi di amministrazione cambiano i funzionari e quindi bloccano tutte le azioni in corso che vanno riprese quindi a Pinuccia Montanari direi di riprendere assolutamente la sfida della città sì perché poi adesso noi andiamo alle elezioni da pochi mesi quindi può essere l'occasione per rilanciare questi argomenti come associazione perché quando io ero sindacato a Genova c'era Ranieri se non sbaglio Andrea Ranieri Ranieri sì sono rimasto molto amico di lui e credo di Sarzana vero? non so credo sia nato Sarzana ma comunque proprio domani allo Zenzero c'è un incontro con l'aspirante sindaco diciamo si può tirar fuori questo argomento Antonio tu che ci sarai domani te lo mandi come argomento da porre non l'unico ma sicuramente c'è porre il problema del piano energetico e del passaggio a un'alimentazione dell'energia di una città di mare che ha tra l'altro delle risorse spettacolose è un modello di Civitavecchia voglio dire se volete pensare a una relazione con Civitavecchia io ne parlo subito con loro sì sì noi siamo interessati proprio anche per la questione dell'impatto del porto sulla città cosa di cui stiamo occupando a Genova con una rete di monitoraggio popolare ma insomma però i temi sono proprio quelli accelerare al cambiamento io posso fare riferimento per quello che ho a Federico e anche a Fasce sì sì dacci queste cose io ho questi indirizzi perfetto sì anche Antonio che ti ha contattato che è lì che è un po' credo che lui non mi abbia dato la sua mi fai un favore allora abbiamo il tuo riferimento l'elenco delle vostre mail e dei vostri numeri telefoni dice io le conservo e vi metto in contatto bene mi pare una buona cosa vedo che Antonio ha acceso il microfono ecco Antonio dici non si sente però aspetta hai acceso ma non si sente non ti sentiamo non ti sentiamo devi schiacciare in alto a destra dove c'è scritto disattiva il mio audio oppure devi schiacciare il microfono che hai in basso a sinistra no no ma è attivato da zoom è attivato gliel'ho attivato io è il suo il problema su zoom è attivato sia il microfono che la camera non ce la fa non lo so Christopher cosa ci suggerisci Christopher è il nostro regista in zoom dalla parte di zoom è tutto regolare la parte di zoom lo tirate io è c'è un problema allo zenzero evidentemente però mi sembra un po' in attesa in attesa di ok in attesa di questo di fasce di città posso dire due parole certo tanto sono molto contento di poter vedere Mario Agostinelli con il quale ci scambiamo email lui manda materiale io non faccio altro che trasportare il suo materiale dove posso a tutti a tutti i posti possibili immaginabili io ritengo che Mario ha già dato la sua disponibilità ma bisogna concretizzarla addirittura penso che se se la sente deve venirci a trovare a Genova prima del 12 Federico le elezioni sono il 12 di giugno no ma dato che io non voto non qualche mese non qualche mese sì sì scusami ragione quindi quindi voglio dire se Mario Agostinelli ci viene a trovare a Genova ripiologhiamo in un dibattito una conferenza tutto quello che è stato detto ripigliare quel progetto che ho capito che era della Giunta Doria noi c'eravamo quando c'era la Giunta Doria eravamo solo preoccupati che faceva cose non quelle che tu hai detto o almeno l'aveva progettata io penso che fosse anche in buona fede che magari l'avrebbe anche volute fare ma purtroppo il signor Doria ci ha fatto solo diciamo degli scherzi da preti era stato sponsorizzato da Don Gallo e lui ci voleva privatizzare l'AMIU devi sapere che in questo momento con tutti i difetti possibili immaginabili che potremmo elencare fai cassonetti nuovi e non ci dà le chiavi per dirne una sotto un caso c'è i nuovi cassonetti e non ci abbiamo le chiavi ma una cosa interessante che è stata citata forse di striscio è il biometano ci abbiamo è stato diciamo pubblicizzato anche sul secolo che c'è un impianto di biometano che non so quanto possa immettere nella nella rete nella rete del metano adesso immette adesso immette nella rete questo metano quello di scarpino io penso che anche ovviamente io sono innamorato dei pannelli solari non faccio altro che chiedere come faccio a farmi a trovare un progettista che mi fa il progetto per il tetto del mio gasiggiato che stiamo rifacendo il terrazzo non c'è niente e non sono ancora riuscito a trovare uno che possa fare un progetto per l'impianto diciamo dei pannelli solari sul tetto se qualcuno mi dà un indirizzo finalmente troverò il mio poi sulle comunità energetiche ma hai detto che quel comune ci ha messo il 26% ma non dobbiamo immaginare visto che ci siamo salvati l'AMIU alla faccia di Doria visto che ci siamo tenuti i trasporti pubblici voglio dire non sarebbe il caso che queste comunità energetiche ci fosse il comune e quando vedete domani dell'astrologo vedete dell'astrologo domani ecco comunità energetiche che sia un programma progetto e la possibilità che i stadini possono andarsi a chiedere andare a chiedere da qualche parte tutte le informazioni per poter mettersi il pannello solare sul terrazzo condominiale anche soprattutto condominiale ma comunque voglio dire investire per quanto possibile il nostro candidato sinaco che è anche il mio naturalmente io sono di Europa Verde con Sansa e linea condivisa sappiatelo votateci e dopodiché voglio dire Mario Agostinelli supplica vieni a trovarci a Genova prima del 12 di giugno grazie Antonio è riuscito a collegarsi? non si sente Antonio non si sente Antonio mi spiace c'è qualcun altro eventualmente che vuole intervenire? prova col telefono Antonio se mi telefoni io ti metto prova a chiamarti io Antonio Mario questa idea di venire a Genova c'è un po' di tempo guardavo adesso dopo il 6 giugno purtroppo quindi abbiamo già fatto le lezioni no il 12 il 12 ok siamo allora in tempo o magari prima del 4 giugno io ho prima del 4 giugno un attimo che guardo io ho l'agenda davanti se ci dici se dici quando potresti venire me lo scrivo subito perché devi sapere che c'è un calendario di prova a parlare ma Antonio può intervenire scusate se mi fate silenzio Antonio ce l'ho sul telefono e quindi potrebbe si ma spegni devo parlare Antonio credo che potrei venire attorno al 30 di maggio però dovremmo sentirci non riesco proviamo a sentire Antonio scusate adesso vi silenzio tutti e proviamo a sentire Antonio sentiamo qualcosa prova a parlare Antonio ci sentiamo ringrazio Mario per questo suo intervento una cosa che mi è sembrata molto interessante a livello nostro locale la presenza di questo piano energetico cittadino che a questo punto com'errebbe riprendere riprendere in mano anche sul corso del collegamento con città vecchia e del gemellaggio chiamiamolo come vogliamo che c'entra una cosa interessante domani avremo quello trovo e proveremo a apportare il problema del piano energetico genovese dovrebbe conoscere un po' di più io spero che sia qualcuno che sia più capace di il carro ecco bene se non ci sono altri poi mi auguro che lo zenzero inviti gli altri candidati di sinistra per il comune di genova starà allo zenzero va bene ci sono altri interventi Christopher hai fatto la tua parte di di si si però non facciamo il programma elettorale hai fatto bene par condicio par condicio allora se non ci sono altri interventi io ringrazio ringrazio Mario Agostinelli Pinuccia voleva dire una cosa ecco che dai Pinuccia allora no velocemente semplicemente volevo ricordare il piano energetico per il clima che avevamo fatto nel 2012 che prevedeva 80 azioni specifiche e che spero sia anche diciamo stato poi recuperato anche nel secondo e per e alcune azioni erano già iniziate a essere realizzate ed era un piano molto molto dettagliato con anche i finanziamenti tanto che noi avevamo recuperato comunque 10 milioni di euro per cui una serie di azioni sono state anche realizzate e c'erano anche e c'erano anche azioni dei cittadini come scrivevo prima scusate ma è caduta la linea perché ho ricevuto una telefonata le azioni erano dei gruppi ad esempio di acquisto solare tutta una serie di azioni che andavano e puntavano appunto all'autosufficienza energetica oggi con il nuovo concetto di comunità energetica come è stato ben ricordato da Agostinelli secondo me converrebbe andare anche a riprendersi quelle 80 azioni perché erano a breve medio e lungo termine e poi erano molto dettagliate anche rispetto alle necessità delle città perché era stato frutto di una lunghissima analisi con l'agenzia regionale per l'energia l'are con la Fabianelli e l'università di Genova e quindi c'era stato un grosso studio dietro insomma io l'ho ricordato nel mio volumetto ma semplicemente con una sintesi che sono dieci paginette però in rete si trova ancora il piano e si trova sul sito del comune di Genova e quindi lo si può analizzare assieme a quell'altro appunto immagino che no perché poi cambia le amministrazioni la Fabianelli so che si occupa ancora di queste cose eh eh no infatti e si occupa proprio delle comunità energetiche perché ha partecipato alla conferenza due mesi fa e la conosco siamo in contatto per sì noi avevamo un gruppo di lavoro con la con Ugo Lini la Fabianelli e il dipartimento appunto di di energetica insomma dell'università di Genova e che ha fatto questo grandissimo lavoro perché ci abbia messo più di un anno e tra l'altro era stato anche premiato dalla commissione europea perché è stato il primo provato eh in Italia insomma ed è un piano la Fabianelli garantisce comunque perché la Maria è molto brava quindi secondo me se lei per esempio era proprio la Fabianelli che mi ha detto che quel progetto che era stato presentato per le paleoliche sulla diga a Forania non era non era un granché insomma e il fatto che non sia stato provato non è un dramma mi sentite? chi è che dice mi sentite? chi ti sentiamo Antonio? ah ecco sì bene no scusate va bene finisci pure scusa tanto c'è un intervento? ma c'era un intervento dallo Zenzaro adesso non ho capito il mi sentite da dove arrivava posso sì allora sono Paolo posso parlare direttamente chiudo il telefono eccetera semplicemente una domanda da ignorante come sono mi piacerebbe capire qualcosa di più sull'idrogeno d'autotrazione per i mezzi pubblici per i mezzi privati eccetera perché secondo me visto che si va verso l'elettrico l'elettrico comporta dei grossi problemi vorrei capire perché l'idrogeno ne ho sentito parlare molto bene ne ho sentito parlare molto male eccetera vorrei come dire che qualcuno più esperto di me potesse dirmi qualcosa grazie Mario dunque l'idrogeno ha il suo rendimento migliore se viene messo in pile a combustibili cioè se viene stoccato attraverso energie rinnovabili per questo si chiama idrogeno verde cioè non prodotto dal metano che viene messo a contatto con l'aria e dal luogo a ossido di carbonio e a CO2 e idrogeno ma invece prodotto da energie rinnovabili può essere conservato in vari modi o messo dentro bombole a 750 atmosfere che consente un rendimento e un'autonomia piuttosto notevole e trasformato in elettricità facendo girare ruotare i motori elettrici quindi è abbastanza l'ideale credo ancora più che per le automobili su cui probabilmente è più competitiva finché ce n'è le pile che vanno direttamente al i morsetti invece ha dei grossi rendimenti su battelli navi e su trasporto di treno cioè l'idrogeno ha dei vantaggi importanti ad esempio per il trasporto marittimo e noi stiamo abbastanza lavorando su un progetto della Siemens che pensa di immagazzinare l'idrogeno che sono dei nuclei molto piccoli in nanotubi cioè avere delle superfici che vengono trattate in maniera tecnologicamente molto avanzata e che si rendono porose e che restituiscono su solicitazione elettrica minima l'idrogeno allo stato in cui può essere usato come motore per un sistema elettrico quindi alla domanda è molto interessante l'idrogeno allo stato attuale mi sembra che sia più vantaggioso parlo dello stato attuale perché evolve moltissimo tutto questo insieme di tecnologie sull'auto è più vantaggioso probabilmente la pila questo è quello che è su trasporti che in modo particolare spingono influidi o hanno attriti meno rilevanti come nel caso del rapporto proprio peso attrito nel caso dei treni l'idrogeno è ormai commercializzato cioè in valle camonica non lontano da me le ferrovie nord dal 2023 a parte adesso la guerra dovrebbero far viaggiare la linea che va da Brescia a Edolo con dei treni della Siemens che sono alimentati da idrogeno che viene prodotto dai bacini idroelettrici della valle camonica Ti volevo ricordare che su questo Riccola Armaroli ha parlato molto bravo Armaroli con le batterie nell'auto conosce benissimo questo è un tema che appunto chi adesso ha fatto la domanda può andare a vedere mi sembra che quello è il tema che ha introdotto potrebbe essere anche un argomento da trattare della prossima puntata dopo quest'estate io tutto sommato ti inviterei già ti inviterei già io vengo volentieri ho grandi amici a Piavoli e quindi potrei anche e poi a Genova aspetta era in consiglio comunale per la sinistra c'era è un un insegnante molto simpatico Antonio Bruno Antonio Bruno sono molto amico di Antonio Bruno ma infatti era lui che aveva fatto da tramite per la tua presentazione l'altra volta allo zenzero esatto per la tua presentazione del libro che aveva presentato Antonio l'ho sentito pochi giorni fa io mi unisco all'invito in ottobre allo zenzero molto volentieri molto volentieri e grazie a voi grazie a te se non ci sono altri interventi Pinuccia che precisava qualcosa l'ho intravisto aspetta dove sei Pinuccia c'era le slide forse c'era qualcosa ci sente? si delle slide si vi potevo inviare casomai vi mando all'eco istituto le slide che mostrano tutti i vari progetti e tiratelo anche a me per favore perfetto ottimo grazie bene allora a questo punto chiudiamo direi ringrazio c'è da annunciare alla prossima conferenza sì sì non c'è da annunciare per il prossimo del ciclo quella sera lì preferirei prima un piatto di trenetta al pesto vabbè lo zenzero sicuramente dopo se si fa la conferenza alle sei e poi Bruno mi aveva portato in un carruccio in un ristorante tenuto da estracomunitari o da una cooperativa sarà quella di Don Gallo come sì no c'è questo di Don Gallo che forse può essere ma comunque c'erano tanti non è nei carrucci dalla piazza della stazione ma perché poi dovevi partire perché se no di solito si cena lo zenzero con la cucina raffinatissima sono bravissimi i cuochi e le cuochi non ho niente da accampare di diverso va bene in attesa che Mario ritorni lo ringrazio volevo un attimo ringraziare un po' tutti perché il circolo zenzero che ha ospitato tutti questi incontri e che ha organizzato appunto gli incontri stessi poi volevo ringraziare Cristopher Garaventa che ci sta curando la regia in modo molto molto accurato Carola Sessarago che è un po' è quella che sta curando che ha curato tutte le la parte grafica di questi incontri Nelocandine che è molto brava e infine è Maria Teresa che appunto ha moderato adeguatamente tutti questi incontri ci rivediamo io devo ringraziare Federico va bene ok ci ringraziamo ringrazio tutti 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 ci vedremo sicuramente dopo quest'estate ecco vi rinnovo anch'io l'invito a chi ci ha seguiti di poter andare a vedere sia nel sito di Zenzero che nella pagina Facebook di il Questituto tutte queste puntate compresa questa che tra breve il buon Cristopher metterà in rete anch'esso credo che siano già online perché domani con tutta probabilità esce un documento credo non so se sul manifesto sul fatto che è stato promosso da Raniero Lavalle è un invito diretto a Papa Francesco che ho sottoscritto anch'io a promuovere un gruppo di pace che mette in contatto Biden e Putin per cosa evidentemente un po' immaginifica però ha un grosso significato perché toglie quello che oggi sembra al centro è che chi vince la partita c'è bisogno farla smettere la partita assolutamente ci siamo in aria a tu va bene ciao grazie a tutti buona serata buona serata grazie a tutti